E' sicuramente la manifestazione più sentita dagli agricoltori, appassionati, ma anche dei bambini, quella della 39esima edizione della Festa della Mietitura, organizzata dalla Cooperativa Agricola di Falcineto, che quest'anno festeggia i suoi 70 anni di vita. Tanti appuntamenti in programma per l'occasione, a partire già da domani, giovedì 24 maggio, nelle campagne di Falcineto. Andiamo nei campi a far vedere quella che è l'agricoltura del presente e anche del futuro, con prove in campo di trattori John Derby di ultima generazione e con la visita al campo varietale di grano duro, tenero ed orzo. Ma l'evento poi continua nel fine settimana con il momento clou, ovvero la rivocazione storica della Mietitura, Trebbiatura e Aratura di un Tempo, attraverso l'esposizione e dimostrazione di mezzi e attrezzature agricole moderne ed epoca. Avremo anche domenica mattina un momento serio di dibattito di confronto con la settantesima Assemblea dei Soci della Cooperativa Agricola Falcineto. Quest'anno consegneremo ai soci anche un libro che abbiamo fatto che ripercorre la storia di tutti i 70 anni della cooperativa. Non mancheranno poi nel pomeriggio e anche la sera momenti di divertimento, due serate danzanti e anche del buon cibo che quest'anno sarà preparato dal ristorante Biricocco di fresca inaugurazione. Ritorniamo qui al Falcineto Park per tuffarci invece in quella che è l'agricoltura del passato, con l'esposizione di tutti i mezzi d'epoca e con la rievocazione della Mietitura, della Trebbiatura e dell'Aratura d'epoca. Dunque per riepilogare vi aspettiamo domani giovedì pomeriggio per le prove in campo a Falcineto vicino alla sede della cooperativa e poi sabato e domenica qui al Falcineto Park per tutte le iniziative che ho appena illustrato.